Bene, cominciamo. Questo tipo di ipnosi richiederà molta concentrazione. Potrete sudare, andare in panico o addirittura tremare. Che cosa vuoi da me? La tua anima. Che sta succedendo a te? Puoi stare tranquillo, Ethan, che nessun significato macabro ha a che fare con i tuoi sogni. Questo non è un'ordata, mi sta distruggendo. Io volevo divertirmi. E adesso come faccio divertirmi? Ethan! Questa è una fottuta maledizione! Punta il 로lessio. Questa è una fottuta maledizione in te! Grazie a tutti.